Ciao a tutti, oggi vorrei farvi vedere questo pirometro, il Trotec BP21, interamente costruito in Germania, pagato 59€. Il prezzo è più elevato rispetto ai soliti termometri cinesi in commercio, però ho visto questo, mi è piaciuto e spero abbia una qualità migliore. Ha alcune caratteristiche che sono il doppio laser per il puntamento, un angolo con un rapporto 12 a 1, dopo vediamo che cos'è, e misura tra meno 35 gradi e più 800 gradi. Ovviamente io l'ho già aperto e l'ho già utilizzato come al solito perché quando mi arrivano queste cose non riesco ad aspettare. Quindi c'è una custodia di plastica abbastanza robusta con un passante che può servire per metterlo alla cintura come fosse una pistola e quindi averlo sempre portata di mano. Delle istruzioni abbastanza super semplificate che spiegano soprattutto lo smaltimento, alcune cose di sicurezza e un codice che permette di ottenere delle istruzioni più approfondite che si possono anche scaricare dal sito con un pdf come ormai viene fatto per quasi tutti i prodotti. Quindi le batterie sono già incluse e sono contenute in questo vano. Qui abbiamo il pulsante per poterlo far funzionare. Qua esistono tre pulsanti di settaggio che dopo vediamo come funzionano. Lo schermo, qui c'è il numero di serie del prodotto, la classe del laser che è una classe 2, qua abbiamo la lente che cattura gli infrarossi e i due puntatori laser. Qui esiste uno schema dell'angolo di misurazione, questo ha una lente di 630-670 mm per un rapporto 12 a 1. Quindi un rapporto 12 a 1 dell'angolo di misurazione vuol dire che a una distanza di 1,20 m misuriamo un'area idealmente 10 cm di diametro. A una distanza di 1,50 m 12,5 cm di diametro e così via. Bisogna prendere la distanza di misurazione, dividerla per 12 e si trova più o meno il diametro di un'ipotetica area misurata. Il puntatore laser a questo proposito ci dà una mano perché possiamo evitare di fare tutti questi conteggi e almeno il doppio puntatore laser ci permette di vedere più facilmente l'area misurata. se adesso vedete ci sono questi due puntini, io avvicinando il laser, avvicinando al foglio di carta il puntino diminuisce quindi l'area misurata diminuisce, allontanandolo aumenta. Quindi questo ci facilita molto la misurazione perché se per esempio voglio misurare il mio mouse se mi piazzo con i puntini a una distanza in cui, adesso faccio un po' fatica, i puntini sono fuori io praticamente misurerò non solo il mouse ma anche l'area circostante. Se invece mi avvicino e faccio finire i due puntini sul mouse praticamente adesso la misurazione è solo della superficie del mouse. Allora per capire il funzionamento, quando noi schiacciamo il pulsante di misurazione ci viene indicata la misurazione che in questo momento lo strumento sta misurando quindi la temperatura. Qua ci viene indicata quella massima perché in questo momento tenendo continuamente premuto il tasto siamo in misurazione continua. Lui sta continuando a misurare. Qui c'è l'indicatore dell'emissività, che è la correzione dell'emissività che dopo vediamo. Qui scan significa che sta continuando a funzionare, qui che il puntatore laser è attivo. Se blocchiamo dice hold, è finita la misurazione, ci dà la misurazione istantanea dell'ultimo momento e qui la temperatura massima. Se vogliamo fare una misurazione continua dobbiamo tenere schiacciato e questo continua a misurare tutti gli oggetti che entrano nel raggio di azione. Se invece schiacciamo solo una volta ci dà la misurazione istantanea in quel momento preciso. Abbiamo poi delle opzioni tipo il laser può essere, che è dato da questi concina, può essere disattivato così. bisogna lasciare il tasto, questo viene disattivato, adesso il raggio laser di supporto alla misurazione non è più attivo, quindi si può sempre continuare a misurare ma senza indicatore laser. Può servire toglierlo nel caso abbiamo paura che finisca negli occhi a qualcuno o che possa disturbare qualcuno. Comunque adesso io lo rimetto. Stessa cosa questa per la lampadina della luce. Per esempio quando io accendo si accende il display, così posso disattivare. In questo caso la misurazione avviene lo stesso, funziona tutto ugualmente, l'unica cosa è che il display non si illumina. Se io non ho bisogno di illuminare il display posso disattivare l'illuminazione e quindi risparmiare ulteriormente la batteria. Qua a basso, adesso riattivo l'illuminazione, qua a basso c'è l'indice di emissività che può essere modificato. Quindi per capire questa cosa dobbiamo però fare un breve ragionamento. Quindi questo termometro misura le onde a infrarossi perché tutti i corpi emettono delle onde elettromagnetiche e queste onde sono diverse a seconda della loro temperatura. Quindi noi, cioè noi, il termometro utilizza queste radiazioni per misurare senza contatto la temperatura di un oggetto. Quindi supponiamo che questo sia l'oggetto. Ok? E questo qua è il nostro strumento. Ok? Qua esiste un'emissione di raggi infrarossi. Ovviamente non tutti i corpi hanno la stessa emissività cioè capacità di emettere onde elettromagnetiche. Inoltre c'è anche un fenomeno di riflessione cioè vuol dire che ci sono delle onde elettromagnetiche che vengono riflesse e che ci vanno a sporcare questo segnale di emissione quindi emissione, questa riflessione quindi questa riflessione ci va a sporcare questo segnale di emissione. Inoltre c'è un fenomeno di trasmissione cioè è possibile che delle onde passino attraverso l'oggetto soprattutto se l'oggetto è sottile e anche questo ci va a sporcare questo segnale di emissione. Quindi noi dobbiamo stare attenti se misuriamo, per avere una misurazione più precisa se misuriamo dei corpi che sono molto sottili quindi ci portano a un rischio di emissione o dei corpi che siano molto riflettenti tipo qualcosa di molto lucido noi praticamente possiamo regolare questo valore di emessività all'interno del menu del termometro questo ci permette di correggere eventuali errori di misurazione perché per esempio se noi andiamo a misurare del metallo lucido, riflettente ha un valore di emessività che è differente dal misurare un corpo opaco alcuni termometri impostano l'indice di emessività fisso a 0,95 non è possibile cambiarlo questo cosa vuol dire? vuol dire che 0,95 va bene per la maggior parte dei materiali per esempio per i materiali organici, per gli alimenti però per un metallo lucido può non andare bene per sapere quali valori di emessività impostare per ogni materiale ci sono delle tabelle che sono presenti sia sul manuale di istruzioni ma si trovano anche su internet perché sono tabelle universali sono state calcolate utilizzando dei termometri a contatto che sono più precisi dei termometri a infrarossi i termometri a infrarossi però hanno il vantaggio di essere più veloci nella misurazione e di poter lavorare a distanza quindi vediamo adesso il menu nel dettaglio schiacciando moda qui lampeggia la E poi con i tasti freccia su e freccia giù si può modificare questa impostazione adesso la lascio a 0,95 schiacciando un'altra volta il tasto ecco si è già spento schiacciando un'altra volta il tasto mod si va a modificare i gradi da Celsius o Fahrenheit schiacciando ancora si può scegliere tra massima e minima cioè quando utilizzo la misurazione continua se tengo sempre il tasto schiacciato faccio la misurazione continua se invece lo schiaccio solo una volta la misurazione è spot al termine della misurazione continua dove la temperatura può variare sul display mi viene indicata qual è la temperatura massima che io ho misurato all'interno di questo intervallo di misurazione posso anche selezionare volendo la temperatura minima sempre entrando in questo menu altre funzioni del menu sono la possibilità di bloccare la misurazione cioè nel senso che io per fare la misurazione continua devo tenere il tasto schiacciato per fare quella spot schiaccio una volta e basta ecco se metto on dove c'è il lucchettino è sufficiente che premo il tasto una volta poi lo lascio andare e questo rimane sempre attivo nella misurazione continua quindi non ho bisogno di tenere schiacciato il tasto però preferisco tenere chi ha schiacciato il tasto perché tanto non è che mi costa molta fatica poi altri settaggi sono qui abilito l'allarme sulla temperatura massima qui imposto il valore della temperatura massima al quale deve suonare qui imposto un valore di temp... abilito l'allarme alla temperatura minima qui imposto un valore di temperatura minima al quale l'allarme deve suonare quindi in definitiva direi che il termometro ha alcune caratteristiche che io cercavo cioè misurazione tra meno 35 e 800 gradi che è più che sufficiente per quello che devo fare io a me cercavo una misurazione fino a 500 gradi ha un angolo buono 12 a 1 ha un doppio laser utilissimo anzi direi fondamentale per puntare l'oggetto e ha la possibilità di modificare l'imbice di emessività che è molto utile che non tutti i termometri hanno e che nel caso dovesse misurare qualche oggetto un po' particolare non fa male ovviamente io personalmente sono soddisfatto dell'acquisto poi ognuno deve valutare per ciò che deve fare se vale la pena fare un acquisto di questo tipo ciao a tutti